Intro Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in un nuovo video Io sono Gianmarco ed oggi l'hashtag ansietta è di casa La mia o anche la vostra Perché oggi parleremo delle 5 volte durante le quali qualcosa di paranormale Dei fantasmi, qualcosa di strano si è manifestato in diretta tv Da anni ormai non guardo la televisione ma non per queste cose qua Anzi adesso anche per queste cose Tutti quanti sapete che la televisione in diretta è il tipo di tv che più è rischioso Per i produttori, per i sceneggiatori, per i presentatori Principalmente per il fatto che quello che succede non è 100% prevedibile E infatti in questi 5 episodi sono successe delle cose in diretta che non erano previste E in più non erano e non sono spiegabili tuttora Ho raccolto questi 5 episodi tutti quanti per voi con tanto di video E oggi li guarderemo insieme e li commenterò per tutti quanti voi Vi ricordo che se questo tipo di video vi piace vi potete iscrivere al mio canale E quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e mettete un pollice in su a questo video Il primo episodio di cui vi voglio parlare è un episodio che è accaduto nel 2014 Il giorno prima di Halloween Quindi più o meno in questo periodo Il giorno prima di Halloween un gruppo di giornalisti di ktvn.com Andarono a visitare le rovine di una casa che apparteneva ad un uomo William, detto anche Whiskey Bill Infatti da quello che si narra Il signor Whiskey Bill era un amante dei superalcolici E li produceva in questo suo casale In questa sua abitazione che adesso non sono altro che rovine L'abitazione venne costruita nel 1930 e successivamente abbandonata a se stessa Il telegiornale di ktvn.com decise di collaborare con un gruppo di ricercatori sul paranormale I Boogeyman NV Che da anni sostengono che la location sia infestata Tanto che uno dei Boogeyman NV Per dare un grado di valutazione di paranormale in questo canyon In questa casa infestata Ha detto che da 1 a 10 siamo a 11 Principalmente per il fatto che i resti del proprietario di casa Sono stati seppelliti proprio lì vicino A circa 100 metri dalla casa si trova infatti una zona adibita a tomba per Whiskey Bill Il gruppo di Boogeyman NV sostiene che il proprietario di casa non se ne sia mai andato Uno del gruppo di Boogeyman NV sostiene che Whiskey Bill si sarebbe manifestato addirittura in un registratore vocale Ci sarebbe infatti questa registrazione dove una voce urla Muori Pete Quel registratore vocale apparteneva appunto ad un ragazzo di nome Pete La tv e il gruppo Boogeyman NV sostengono che lo stesso messaggio sia stato scritto anche in pietra davanti alla casa E tutto si conclude con un colpo di scena inaspettato Mentre la tv fa un'intervista ad uno dei ragazzi del gruppo Boogeyman Si sentono dei rumori metallici provenire dalla casa Seguito da una voce che dice Non siete soli E questo qua è il video Anzietta, ansietta Cioè voi immaginate di essere lì in quel posto e sentire una voce che dice Non siete soli Ma immaginate vedere questa roba trasmessa in diretta a tv? Il secondo episodio di cui voglio parlare riguarda uno dei personaggi che ha fatto la storia della musica internazionale Tutti sappiamo che è Michael Jackson Uno dei più famosi cantanti e performer della storia Innovatore della musica e della figura di pop star come la conosciamo Si apprezzano anche tutti quanti della sua tragica morte Ma se vi dicessi che in realtà lo spirito di Michael Jackson non se n'è mai andato da casa sua? Dopo la sua morte le tv di tutto quanto il mondo si focalizzarono su di lui e su Neverland Neverland era la casa, anzi praticamente il parco divertimenti che Michael Jackson aveva costruito Per se stesso e anche per tutte le persone che volevano entrarci La CNN tenne un servizio live all'interno della casa di Neverland Dove sembra a un certo punto comparire un'ombra sospetta Mentre infatti vengono inquadrati dei corridoi di Neverland Un'ombra scura omonoide compare nella scena E se fosse Michael, e se fosse ancora lo spirito di Michael che vive e passa il suo tempo All'interno di Neverland In effetti nella scena si vede proprio comparire questa ombra Che poi scompare all'improvviso La CNN giustificò la scena come un addetto ai lavori Che per sbaglio era comparso durante la diretta E se invece la CNN stesse nascondendo di aver ripreso Il fantasma o lo spirito di Michael Jackson Se non altro speriamo che se ne stia a casa sua E che non vada in giro a spaventare la gente E faccia l'anima sua raga Mi dispiace tanto L'ombra che viene ripresa è veramente molto strana È un po' ambigua La CNN dice che era un addetto ai lavori Tantissimi sostengono che lo spirito di Michael Era ancora lì in quel momento Quando sono state riprese quelle scene Sta a voi decidere Fatemi sapere nei commenti qual è la vostra opinione Il terzo evento paranormale ripreso in diretta a TV Del quale voglio parlare È un fantasma in autostrada Gli spettatori della ITV mentre guardavano il telegiornale 2011 Si sono chiesti È un fantasma? Dopo la scena di un incidente mortale Una giornalista si posiziona nella zona dell'incidente Quando all'improvviso una strana ombra compare nella scena Che non ci fa altro che pensare che possa essere il fantasma Di qualcuno morto per l'incidente Forse morto nello stesso incidente è accaduto poco prima ITV non poteva fare niente per negare l'evidenza Dovettero infatti rilasciare un comunicato stampa E commentare quello che era stato ripreso Dichiararono che secondo loro non era altro che un insetto Che attraversava la telecamera in quell'esatto momento Io onestamente guardando così questa scena Non vedo un insetto Avremmo Se fosse stato un insetto avremmo visto comunque Le parmezze di una zampa Di un'antenna Qualcosa del genere Delle ali E in più avrebbe avuto un movimento molto diverso da quello Raga secondo me non è un insetto Un insetto che entra in scena lo vedi palesemente Perché ha un effetto diverso E in più alla luce del sole non avrebbe mai Quell'ombra Io sono abbastanza convinto che qualcosa di strano ci sia in questa scena Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi Questo è un video che mi ha lasciato completamente sconcertato e a bocca aperta Quindi ragazzi preparatevi L'ultimo posto dove io penserei mai di trovare un fantasma E raga mi sembra di averne passate abbastanza È proprio un campo da calcio Mai mi aspetterei di trovare un fantasma o qualcosa di paranormale in un campo da calcio Specialmente durante una partita trasmessa in diretta tv E penso che questa cosa sia abbastanza condivisibile Però a quanto pare dobbiamo ricrederci Durante una partita di calcio ripresa in diretta Ma anche se siete lì allo stadio a guardarla L'attenzione è completamente rivolta ai giocatori Alla palla, al gioco Non di certo agli spalti In questa scena però sta accadendo una cosa veramente assurda Paranormale negli spalti Una figura umanoide infatti ad un certo punto acquista notevole velocità E attraversa le inferiate, le persone e tutto quello che trova davanti ai suoi piedi E le persone che guardano la partita sono completamente indisturbate Dal tipo che li attraversa come se fossero burro E' correcto, nessuno ha amonestato Saca al Arquiro, le pega forte la pelota Baca, se termina il encuentro di Iva Octavo di finale, Copa Bristol Libertadores E' correcto, nessuno ha amonestato Saca al Arquiro, le pega forte la pelota Cioè saprà veramente che lui stia correndo in un campo di calcio pure lui Ma sta correndo attraverso le persone, addirittura attraverso delle inferiate E se non se ne fossero accorte perché è un fantasma o qualcosa di non umano A voi lascio giudicare Se questo non è abbastanza per farvi capire che la televisione è il male supremo E ci può donare veramente molta ansietta anche inconsapevolmente Arriviamo all'ultimo episodio che conclude perfettamente tutto questo video qua Lo so raga, veri ansietta, però dobbiamo arrivare alla fine Se siete arrivati qua fino alla fine, senza restare così Oh mio Dio Bravi Vi dico onestamente, questo qua secondo me è uno dei video più sconvolgenti e inspiegabili Che io abbia mai visto E ne ho visti veramente tanti Ma questo qua proprio vince il premio E' il video più inspiegabile di sempre Secondo questo TG, questo bambino sarebbe posseduto e perseguitato da un demone Che si accanisce su di lui fisicamente Questo bambino sarebbe infatti perseguitato costantemente da un fantasma molto violento Che lo attacca a proprio piacimento Il TG decise di intervenire facendogli un'intervista Ed infatti in questa intervista il fantasma si manifestò in qualsiasi maniera possibile E' possibile infatti vedere scene dove il bambino viene completamente trascinato Da una presenza invisibile Dove viene colpito, ripartato su se stesso Acrobazie che fisicamente sono impossibili da fare A quanto pare la cosa va avanti da molto tempo E il fatto è più strano E' che non accade solamente una volta e basta Durante queste scene Ma succede più più volte E' come se lo spirito non avesse alcun problema a manifestarsi davanti a un sacco di persone Io sinceramente non ho spiegazioni per tutto questo Perché sembra veramente molto realistico E niente raga Questi sono i 5 episodi più spaventosi ripresi in diretta tv Fatemi sapere le vostre opinioni nei commenti Se ci sono altre classifiche o altri temi che vi piacerebbe Che io trattassi nel mio canale Fatemelo sapere nei commenti Ascolto sempre le vostre opinioni Se vi va andate a guardare questa playlist Per andare a vedere tutti quanti i video più sconvolgenti Che ho trovato nel web Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale Esce un nuovo video ogni martedì alle 15 E ogni sabato alle 10.30 All'intento è giovedì Per questo non lo sa mai nessuno Ma ecco possiamo chiedere a qualche fantasma Che compare in diretta tv Io vi mando un bacione sgrande grande E al mio prossimo video Ciao Ciao